Ne mancano ancora dieci di giornate, ma alla fine ne rimarrà soltanto una di squadre che tra l'altro non avrà la certezza ancora di giocare il prossimo anno in Serie D. Insomma la strada per tutti coloro che vogliono salire di categorie è lunga, ma soprattutto la stricata da mille insidie. Premessa doverosa perché chi vincerà questo girone A di eccellenza dovrà poi giocare un gironcino all'italiana con gare di andate e ritorno con le vincenti, probabilmente Livorno e Figline Valdarno, degli altri due gironi toscani. Due saliranno in D, l'altra continuerà negli spareggi. Il recupero di domenica scorsa la guardiana di Lastra Signa ha detto che il tau è battibile e il primo posto ancora non è blindato, affatto. La strigiana e Signa possono sperare anche se quella Maranto è compagine solidissima che rimane la logica favorita. Il calendario però non è stato benevolo per la squadra di Mister Cristiani che domenica ospiterà il Camaiore. È un derby ed inoltre i Blu Amaranto sono complesso ostico, ergo poteva andare meglio. Del resto la classifica sta lì a dimostrare che in un campionato così corto e anomalo il vantaggio acquisito dal tau non è da sottovalutare. La strigiana a tre e Signa a cinque punti non fanno dormire sonni tranquilli, anche se il destino rimane tutto nelle mani degli altopascesi. Le altre sembrano ormai battute e casomai si sta infiammando la lotta per non retrocedere. In tal senso la tredicesima giornata propone un Castelnuovo-Pontremolese, un San Marco Avenza-Riverpieve, dove ci saranno in palio punti pesanti in ottica salvezza. Compito invece non proibitivo per i maggiori rivali del tau, la strigiana a Montecatini, mentre il Signa ospiterà il Prato 2000. Gare abbordabili, ecco perché il tau calcio non può permettersi altri passi falsi.